Il commissario alla ricostruzione Paola Di Micheli è il vice presidente della regione Abruzzo, Giovanni Lolli hanno dato il via all'accordo di programma per lo sviluppo dello stabilimento Lazzaroni a Isola del Gran Sasso che porterà alla creazione di nuove linee di lavoro e circa 50 nuove assunzioni. Un forte segnale di rinascita dopo il terremoto e l'emergenza del gennaio 2017. La Lazzaroni con l'accordo di programma assieme a Regione, Mise e Invitale investe circa 30 milioni fino al 2021 per rendere il biscottificio di Isola del Gran Sasso protagonista del programma Industria 4.0 Ci abbiamo messo molti soldi ma era giusto, era giusto perché stiamo parlando di un'azienda straordinaria, di una famiglia straordinaria perché sono veramente bravi, di un bel progetto e poi insomma per me che sono un uomo del Gran Sasso pensare di portare una buona notizia in un posto di questo genere è una soddisfazione doppia, tripla ma non ci fermiamo qua, stiamo lavorando con il prosciuttificio, io so sempre nel cuore il recupero dei lavoratori di Cruditalia che non mi dimentico, anzi mi auguro che già qui noi potremo recuperare una parte di quei lavoratori e insomma è un posto che merita queste cose perché è un posto troppo bello e il popolo del Gran Sasso Terramano è un popolo straordinario che merita tutto. Beh innanzitutto è un segnale straordinario di questi imprenditori, di questa azienda, di fiducia, di fiducia in queste persone perché prima di tutto un'azienda si insedia quando sa di poter contare sulle persone e sui servizi e questo storicamente è avvenuto e continua ad avvenire nonostante il terremoto. Credo che il supporto che è stato dato dal governo e dalle istituzioni sia stato importante ma non sarebbe bastato se l'esperienza maturata dalla Lazzaroni negli anni passati qui non fosse stata un'esperienza positiva e straordinaria. Gli obiettivi che si pone l'azienda sono altrettanto importanti, consentiranno a questo territorio di crescere, daranno altra occupazione, altro lavoro e altro indotto e io sono onorata e felice di essere qui perché credo che sia un segnale di speranza per tutti. Ogni pietra che noi tutti i giorni faticosamente rimettiamo al posto suo con la ricostruzione ha bisogno di avere comunque sempre al fianco posti di lavoro, possibilità per le famiglie di rimanere in questi luoghi. Le pietre, le case, gli immobili pubblici, le scuole senza il lavoro non sarebbero comunque sufficienti e quindi direi che questo è il terzo aspetto fondamentale della ricostruzione e oggi per me è davvero una bella giornata. Quindi bisogna investire non solamente sulle nuove aziende che arriveranno sul territorio ma soprattutto su quelle presenti? Non è un caso che proprio in questi giorni incontrando i gruppi parlamentari del Parlamento appena insediato ha proposto loro anche una revisione di alcune misure fiscali e finanziarie a sostegno delle imprese, in particolar modo per quelle che hanno patito e sofferto di più il terremoto. Stiamo ragionando su una revisione per esempio della zona franca urbana per finalizzarla in maniera più efficace e rapida soprattutto sulle aziende di piccole dimensioni che sono quelle che evidentemente anche a causa di un temporaneo, mi auguro, allontanamento di alcune persone corrono più rischi. Penso alle aziende del turismo che rappresenta comunque e continuerà e dovrà continuare a rappresentare una delle filiere trainanti di questi territori. È del tutto evidente che sostenere aziende della dimensione della Lazzaroni è diverso che sostenere aziende di piccole e medie dimensioni e quindi abbiamo avviato un approfondimento su un paio di misure economico-finanziarie proprio per differenziare il sostegno sulla base della tipologia delle imprese. Credo che questo vada fatto intanto che la ricostruzione parte, non dopo, perché chi vuole continuare a rimanere a vivere qui deve sapere che ha tutte le condizioni per vivere, il lavoro, la casa e i servizi. La Lazzaroni ha deciso di investire su questa unità produttiva, la Lazzaroni ha due unità produttive, una in provincia di Chieti e una in isola del Gran Sasso. Ha deciso di investire qui proprio perché ha da sempre nel suo animo quello di, oltre che la propria attività industriale produttiva, quella di dare sostegno alle iniziative del territorio. L'obiettivo dell'investimento in l'isola del Gran Sasso verte su quattro punti fondamentali. Chiaramente l'innovazione tecnologica sotto il punto di vista della 4.0, quindi l'innovamento di tutta l'attività produttiva e degli impianti di produzione, nonché l'ampliamento dell'attività produttiva con un raddoppiamento della superficie con nuove linee di produzione, ma allo stesso tempo l'attenzione al capitale umano, quindi riqualificazione di tutto il personale presente all'interno dello stabilimento, inserimento di nuove unità e utilizzando le proprietà intorno allo stabilimento stesso, l'avvio di un progetto di ricerca e sviluppo relativamente alla selezione di materie prime o alla riqualificazione di materie prime di una filiera assolutamente italiana e tradizionale, in modo tale che con i suoi laboratori di ricerca possa mettere a punto nuovi prodotti che sono nuovi dal punto di vista produttivo, ma in realtà sono antichi per la tradizione italiana. Quindi un'attenzione al sociale, un'attenzione all'innovazione tecnologica, un'attenzione alla salute del consumatore, dei nostri consumatori finali, riproponendo prodotti tradizionali, gluten free, free from, che possano essere di sostegno alle nuove esigenze del consumatore. Dal punto di vista occupazionale, quante saranno le persone che dovrebbero essere assunte nei prossimi mesi? Sono previste nel corso dei tre anni che il progetto, in cui il progetto verrà portato a compimento, l'inserimento di diverse nuove unità lavorative, di nuovi collaboratori. Contiamo di arrivare a circa 40 nuove assunzioni e il consolidamento di personale che oggi è inserito a tempo indeterminato, proprio per far fronte a questa fase di investimenti e quindi di, diciamo, una situazione disagevole dal punto di vista produttivo. Sottoscritto presso la sede del BIM a Tenamo il progetto estate 2018, spettacoli dal vivo nei comuni del cratere, che interesserà a tutti i 23 comuni abruzzesi inseriti nel cratere sismico, una convenzione che permetterà di partecipare al bando della regione Abruzzo, che ha messo a disposizione 190 mila euro per la realizzazione di spettacoli dal vivo per l'estate 2018. Noi abbiamo colto a pieno quella che è stata la risorsa messa a disposizione dal MIBAC e dalla regione su un bando di rilancio, diciamo, socioculturale di questi territori. I sindaci in maniera molto intelligente si sono seduti intorno a un tavolo, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo messo giù un programma unico, ponendo come capofila il comune di Crognaleto, di intesa con tutti, abbiamo programmato un'attività che a breve metteremo a sistema per cercare di rilanciare sotto l'aspetto socioculturale i territori, i 23 comuni dell'Abruzzo, quindi dell'Abruzzo intero, che ritengono di dover rimettere a sistema questo territorio e questo tessuto. E credo che sia solo l'inizio, adesso cominceremo a lavorare anche per quell'altra parte importantissima che è la ricostruzione. La regione Abruzzo insieme al MIBAC soprattutto sta facendo un lavoro importante, questa mattina a Teramo abbiamo visto anche come i comuni, nella parte che interessano i 190 mila di finanziamento per l'attività culturale spettacolo al vivo sul loro territorio del cratere, sono messi insieme per fare un progetto unico. A questo giungono anche i 570 mila euro che ci sarà la regione Abruzzo su un bando che scadrà fra pochi giorni e questa cosa è importante per quello che diceva lei, il rilancio dopo la tempesta perfetta, dopodiché lo facciamo anche in un periodo fuori alla stagione turistica tradizionale, quindi partiranno già da maggio fino al 20 luglio, la data massima in cui abbiamo dato le possibilità di fare queste manifestazioni e quindi l'Italia intera conoscerà che per quasi due mesi ci saranno tante attività di manifestazione importanti che illustreremo da qui a qualche settimana. Presidio della Tercop davanti al Comune di Teramo per protestare contro l'annunciata gara che introdurrà i parchimetri, riassegnando la gestione dei parcheggi che metterà a rischio decine di posti di lavoro, gara alla quale visto il fatturato richiesto la Tercop non potrà neanche partecipare. In ballo c'è il destino dei 28 soci lavoratori della cooperativa sociale che gestisce da anni i parcheggi a pagamento in città. Sì, noi col commissario Pizzi ci avevamo già parlato e per questo avevamo proclamato questa manifestazione. Quello che è stato detto è quello che è detto da sempre, che cioè il commissario ha emesso delle delibere, delle determine che tengono conto esclusivamente della legge così come viene minimamente interpretata e quindi il bando che è stato fatto prevede l'assunzione di 9 persone e ne tiene fuori 17 che tra l'altro oltre a perdere il posto di lavoro avranno sulle spalle il debito che hanno maturato, diciamo che la Tercop ha maturato in questi anni a causa delle mancate scelte della politica cittadina. Rispetto a questo noi abbiamo manifestato tutta la nostra contrarietà perché potevano essere prese decisioni migliori e differenti e quindi su questo chiediamo al prefetto un impegno anche per sollecitare il commissario prefettizio e per spiegare che in questa realtà a Teramo ci sono persone che noi vediamo da sempre impegnati nel servizio dei parcheggi. Come si ricordava non vengono rubate macchine, non vengono rotti finestrini proprio in virtù della custodia che questi lavoratori esercitano tutti i giorni. Quindi chiediamo che ci sia la presa in carico di questa situazione. Se non ci dovessero essere delle risposte? Le risposte noi le cerchiamo e le vogliamo perché pretendiamo che questa comunità della mano abbia in atto che questi signori hanno ricevuto questo tipo di situazione. Non vogliamo assolutamente che 17 persone vadano via. Questo è il nostro intento. Presentato in inaugurato a Pineto il centro d'ascolto dell'Elefante Bianco, percorso di responsabilizzazione per autori di violenza. Si tratta di un progetto che nasce per dare una risposta su base regionale ad un fenomeno in costante crescita, quello della violenza sulle donne. Una programmazione di interventi messi a punto in sinergia con i vari soggetti coinvolti. L'uomo autore di violenza è chiamato a prendere coscienza dei suoi comportamenti, confrontarsi e riparare alle sue azioni laddove possibile. È un progetto che è nato a seguito di un'attività che noi abbiamo intrapreso già del 2014 attraverso la nostra associazione Elefante e che purtroppo ci porta a stretto contatto con tante vittime di violenza, quindi in particolar modo donne e bambini. Per questo motivo la nostra associazione ha voluto cercare in qualche modo di attuare un altro tipo di intervento che non fosse solo su il maltrattato, quindi la donna o lo stesso minore, ma potesse naturalmente anche intervenire attraverso una politica di cambiamento su colui che è l'autore dei maltrattamenti. Per questo motivo che abbiamo un po' studiato, abbiamo cercato un attimino di capire se ci fossero altre realtà a livello nazionale, finché abbiamo scoperto quello che è il CAM, il centro d'ascolto per uomini maltrattanti che ha sede a Firenze con il quale ci siamo messi in contatto. Prima naturalmente, tra l'altro facendo proprio un convegno qui al Comune di Pineto insieme con il centro Primavera di Scerne, per poi naturalmente formare i taluni dei nostri operatori ed infine appunto dar vita, dar impulso a questo progetto che ha uno scopo preciso, quello di sia sensibilizzare tutta l'opinione pubblica su quello che è poi fondamentalmente l'essere uomo maltrattante, che tra l'altro insomma non altro che è un uomo normale, un uomo normale che però non riesce a gestire il suo potere di cosiddetto maschio, ma naturalmente lo fa in modo adeguato attraverso la violenza e sia naturalmente proprio a poter intervenire con un percorso psicoeducativo per far sì che appunto trasformi questo suo potere, o meglio la gestione del suo potere, da potere violento a potere di assertività. Un'associazione che si è prefissata un po' di stare vicino a tutta la provincia? Allora, la nostra associazione è nata nel 2014, a giugno 2014 ed è nata dall'incontro tra l'altro veramente del tutto casuale, tra sia i professionisti che già operavano nel settore sociale, però tutte unite da un comune intento, quello di poter trovare degli strumenti proprio innovativi che potessero contenere le enormi difficoltà connesse alla presa in carico di un minore. Per questo motivo abbiamo appunto creato la associazione di un'elefante che ha sede legale ad Atri e dove appunto c'è già una sede operativa e un'altra sede a Giulianova presso l'ex ambito Valtordino, attualmente Terra del Sole e poi un'altra sede a Pescara e adesso appunto con l'avvento di questo progetto ci sarà anche l'ufficializzazione della sede presso il comune di Pineto con il quale operiamo già dall'inizio perché noi sostanzialmente lavoriamo in stretta sinergia con i servizi sociali, quindi evadiamo i cosiddetti decreti o provvedimenti che i servizi sociali attraverso i tribunali devono comunque appunto attuare. Tra l'altro questo progetto vede la compartecipazione quindi oltre che del comune di Pineto, del comune di Atri appunto che è il nostro comune storico e soprattutto dell'ASP, l'azienda servizio alla persona numero due, il cui presidente è l'avvocato Roberto Prosperi e ci ha appunto consentito di poter far sì che questo progetto venga diciamo svolto anche non solo attraverso la loro collaborazione ma mettereci a disposizione un'ottore sede che avremmo ad Atri presso il Palazzo Ricci Conti. Questo progetto è finanziato dalla Fondazione Tercas che sin dall'inizio della nostra Costituzione quindi che io tengo veramente a ringraziare in particolar modo ci ha sempre sostituito economicamente credendo proprio diciamo nella autenticità delle nostre iniziative. Il nostro centro che è il primo in Abruzzo nasce appunto in riferimento ai centri CAM in Toscana nella presa in carico dell'autore della violenza e non della vittima. Io credo che la politica debba muoversi in modo sensibile per ascoltare e poi per dare delle risposte. Noi stiamo facendo questo, lo stiamo facendo dal primo momento e lavorare e impegnarsi nel combattere la violenza di genere è uno dei punti fermi della nostra amministrazione. Purtroppo sta diventando una piega sociale, la politica ha sicuramente un compito importante anche se poi in realtà può fare poco, può coadiuvare, collaborare e aiutare soprattutto queste associazioni come il caso dell'Associazione dell'Elefante che ha sede operativa ad Atri che dal 2014 collabora assolutamente con l'amministrazione di Atri ma come dimostra oggi qui a Villa Figliani di Pineto anche con le altre realtà, con gli altri comuni limitrofi fanno un lavoro importantissimo purtroppo la spirale di violenza che in questo periodo da qualche anno sta raggiungendo livelli veramente preoccupanti, sembra quasi la normalità che qualcuno maltratti donne o comunque persone indifese. Credo che il loro lavoro sia non soltanto importante ma essenziale, non soltanto il lavoro di prevenzione ma anche quello di cura perché è indubbio che molte di queste persone e credo che il convegno di oggi approfondisca proprio questo aspetto nello specifico abbia proprio il compito di, come dire, di seguire il percorso di quelle persone che insomma hanno quotidianamente o per natura atteggiamenti violenti. Credo che la collaborazione tra le amministrazioni comunali soprattutto Atri, le associazioni e la ASP2 di Atri, Pineto, Giulianova e la Fondazione Tercasi il cui contributo è essenziale perché purtroppo anche per queste attività i fondi sono sempre più difficili da reperire e viviamo insomma un periodo un po' particolare. Ma questo non ci deve fermare, anzi ci deve essere di stimolo per continuare ad andare avanti e ringraziare soprattutto tutte queste persone che lavorano quotidianamente, sempre coadiuvati dalle amministrazioni comunali e delle varie associazioni sul territorio affinché quello che sta diventando una piaga possa, se non altro, essere frenata e combattuta nel migliore dei modi. A Teramo, dopo il passo indietro da parte di Enel sullo spostamento della centrale Cona in Contrada e Gattia è stato individuato e ufficializzato il nuovo sito per la delocalizzazione della cabina primaria elettrica del quartiere Cona che alimenta 32.000 utenze, un'area che si trova a poca distanza dall'attuale ubicazione ma che insiste in una zona scarsa densità abitativa e al di fuori del contesto urbano e di proprietà di una delle società del gruppo Enel. Una notizia tutto sommato positiva per i numerosi residenti del quartiere Cona che ora si auguro tempi brevi per lo smantellamento dell'attuale centrale che lascerà il posto ad una grande piazza. I fili verranno interrati, i tralicci verranno eliminati, io mi sento di dire che c'è stato successo sotto questo aspetto e quindi il quartiere si doterà di un'area pubblica importante sotto questo aspetto quindi una riquelificazione dal punto di vista sia ambientale che architettonico che sanitario ci sarà sicuramente. Quindi io mi sono sentito responsabilizzato sotto questo aspetto e ho dato come comitato di quartiere l'assenso a questo secondo progetto, il secondo disegno che sicuramente è inferiore rispetto al primo che sarebbe costato comunque 9 milioni e mezzo, quest'altro costerà sui 5 milioni, i 9 milioni e mezzo non sono stati disponibili per realizzare quel progetto disegnato inizialmente alla gattia. Quindi abbiamo per forza dovuto acquisire e dare parere favorevole a questo secondo progetto piuttosto che non realizzare niente e far rimanere le cose come stanno. I tempi saranno sicuramente molto più brevi rispetto a quelli disegnati per il primo progetto nel senso che il primo progetto aveva bisogno di ulteriori autorizzazioni, di altre autorizzazioni oltre a quelle necessarie e previste. Quindi saranno sicuramente accorciati i tempi ma io prevedo nell'arco di un anno e mezzo o due che la cosa possa essere iniziata e eseguita. Grazie E' quanto deliberato dall'Assemblea dei Socii della GST, Provincia, Regione Abruzzo, Comuni di Fanadriano e Pietracamela e Asbuc, alla presenza del neo-assessore regionale Giorgio D'Ignazio, annunciato inoltre ai soci dal Presidente di Sabatino un ulteriore finanziamento per l'area, 4 milioni di euro derivanti dai fondi Cipe, che serviranno a completare l'intervento già realizzato sulla Provinciale 43 con la sistemazione dell'area dell'Anello fra Pietracamela dei Prati di Tivo e per la riapertura della 43A, chiusa da oltre sei anni per una frana di vaste proporzioni che collega Fanadriano a Pietracamela. Entro la fine di maggio siamo pronti per riaprire, ma gli impianti saranno aperti anche in occasione del primo maggio, ha dichiarato il Presidente della Provincia di Terra, Morenzo di Sabatino. Quest'estate andremo ancora in gestione diretta, mentre per quella invernale avremo operatori privati scelti attraverso un bando pluriennale ad un canone calmerato. Di Sabatino ha fatto anche appello ai comuni e agli altri soci, su quest'area serve una progettazione turistica strategica che va ben oltre gli impianti, i comuni devono fare la loro parte, devono progettare, mettersi insieme e chiedere finanziamenti. Come preannunciato i tecnici della provincia, assieme ad una ditta specializzata, hanno fatto brillare la parete diversante della SP42 perché erano ancora presenti dei massi pericolanti, una fase essenziale per completare l'intervento di messa in sicurezza del tratto della provinciale ricadente nel comune di Montore Alvomano, fra le frazioni di Villa Vallucci e Santa Lucia, dove il 6 marzo scorso una frane di vaste proporzioni con massi ciclopici hanno invaso la carreggiata, costringendo i residenti della frazione interessate ad un percorso alternativo piuttosto lungo. Questa strada soffre di questi problemi da tanti anni. Già il primo intervento è avvenuto 30 anni fa circa e abbiamo fatto gli interventi di reti paramassi, gli interventi di trattenuta dei massi che rischiano di cadere. Quindi è una cosa che conosciamo. Purtroppo adesso vuoi un po' l'effetto del terremoto che magari ha fratturato maggiormente i corpi rocciosi, anche per il effetto gelo-disgelo, infatti non è un caso che sempre a primavera accadano queste cose, si è riproposto il problema e siamo intervenuti in somma urgenza con l'eliminazione di questo problema in particolare. L'intervento prevede la bonifica iniziale di tutta la parte rocciosa, di cui l'esplosione è la parte terminale della bonifica. A seguire proseguiremo con la rimozione dei massi per riaprire la strada e la messa in sicurezza con la posizione di reti, paramassi e altri sistemi di trattenuta. Ovviamente quello che adesso i cittadini si chiedono, le tempistiche, quanto tempo ci vorrà per riaprire la strada? Noi stiamo cercando di fare il nostro medio perché abbiamo il trasporto pubblico locale che è interrotto, ci hanno fatto un preventivo in regione del costo di circa 1.000 euro al giorno, quindi ogni giorno di ritardo sono 1.000 euro. Quindi stiamo cercando di comprimere i tempi e soprattutto i sovrapporti, per cui appena abbiamo finito la bonifica della caduta massi, apriamo la strada sotto e mentre sopra lavoriamo per la posizione delle reti, consentiremo solo al trasporto pubblico locale con interventi con passaggi protetti, sono circa 8 passaggi al giorno, faremo dei passaggi in sicurezza per almeno riaprire il trasporto pubblico locale.